Trasporto pubblico e scolastico, la gestione delle attività scolastiche, logistiche e spazi per la didattica sono i temi che entro il prossimo 14 settembre dovranno trovare una soluzione. Nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione del contagio covid sarà difficilissimo trasportare contemporaneamente gli alunni a bordo dei pullman perché non saranno consentiti affollamenti. Stamani sulla scorta delle criticità segnalate dalle organizzazioni sindacali relativi al trasporto pubblico locale si è tenuto un tavolo in prefettura Salerno per pianificare tutte le azioni necessarie per garantire viaggi in sicurezza. Il mondo della scuola è strettamente connesso al settore dei trasporti e quindi in attesa dei riscontri nazionali per trovare soluzioni idonee per la riapertura delle scuole un problema non facile da risolvere. Ha rimarcato stamani il prefetto Francesco Russo ai nostri microfoni per un settore già in affanno in epoca pre-covid che oggi non fa altro che acquirsi è fondamentale pianificare una serie di azioni da intraprendere. Con l'incontro di oggi al palazzo di governo si è dato il via all'attivazione di un tavolo permanente. Noi abbiamo attivato questo tavolo per la verità che nei trasporti noi spesso ci incontriamo perché è uno dei diciamo dei punti notali di quelle che sono diciamo le problematiche di una città e di una provincia. Evidentemente stiamo attendendo anche ciò che si sta diciamo come dire trattando a livello nazionale. Lei sa che ci sono tavoli anche a livello di rapporti fra Stato e regioni in cui si stanno trovando alcune soluzioni e noi poi a valle anche di quelle che saranno le soluzioni cercheremo di portarle sul territorio e di attraverso anche come dire una verifica con il mondo della scuola con il mondo sindacale insomma capire in che modo cercare di trovare le migliori soluzioni possibili. Il problema non è facile da risolvere perché tenga conto che è una situazione trasportistica in cui già c'era diciamo già l'anno scorso una situazione pre covid degli autobus abbastanza pieni per discorrendo adesso con i problemi del distanziamento evidentemente le problematiche aumentano. Cercheremo di capire in che modo anche ripeto con il confronto con tutti infatti abbiamo stabilito stamattina di rendere questo tavolo permanente quindi quindi come dire continuare negli incontri ma non così giusto per vederci intanto in queste settimane io prenderò contatti con il mondo della scuola cercando di capire quali sono anche le loro esigenze. L'ideale sarebbe avere più corse ma ovviamente il parco mezzi dei trasporti non è sufficiente per poter assicurare anche questo allo stesso tempo bisogna garantire il distanziamento nei pullman insomma sono due esigenze non facilmente conciliabili. Sì sono situazioni... E poi soprattutto ci sono territori diversi parlare della costiera è cosa diversa che parlare della Piana del Sele oppure della città di Salerno? Assolutamente sono sono situazioni assolutamente nuove rispetto anche rispetto a quello in cui ci trovavamo ad affrontare precedentemente. C'è grande consapevolezza devo dire la verità grande serietà da parte di tutti in affrontare i problemi per questo è un problema che va sviscerato bene chiaramente vanno date prima di inizio della scuola delle notizie quanto più precise possibile anche alle famiglie tutti quanti praticamente per invita che tenga conto che il mondo poi noi parliamo del mondo della scuola ma proprio il sindaco ce lo ricordava durante l'incontro il mondo della scuola si interseca con il mondo del lavoro perché diciamo la maggior parte dei genitori per fortuna lavorano quindi hanno queste necessità via discorrenti allora abbiamo tante tante questioni da affrontare lo faremo con incontri diciamo abbastanza continui.